Ciao, siamo in laboratorio da Tijer Bazaar, un'idea veloce e facile da realizzare. Dolce vento, la scatola di confetti incartati singolarmente. Si presenta come un vassoio una volta aperto. Potete lasciare a disposizione degli ospiti le scatoline per inserire il numero dei confetti desiderati. Abbiamo scelto il cuoricino, un fiocchetto di nastrino sottile e la confezione è fatta.